Quando eravamo ragazzi, a vent'anni, e raggiungevamo l'ambito ingresso nell'arma, gli alamari erano la cosa più esaltante insieme alla fiamma della nostra istituzione. E ricordo ancora che facevamo a gara, anche con qualche sacrificio di stipendio, nel farci di cucire sulla giubba, non applicare, ma proprio cucire sulla giubba, come se volessimo che ci cucissero sulla pelle. E' una verità, per esempio, che la nostra Costituzione, quella che noi viviamo, quella che molti ricordano di tanto in tanto, ma che noi difendiamo giorno per giorno. Che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi. Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Mi fido della mia professionalità. Sono convinto che con un abile paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla mafia il suo potere. Grazie per la visione. Grazie a tutti.